L'Atalanta pareggia 0-0 contro il Genoa in quella che è probabilmente la più brutta partita della stagione, una prestazione triste, parecchio. Ci si aspettava molto di più dopo la sconfitta con la Roma e invece si è fatto molto molto poco. Diciamo che non c'è un gran bel regalo per i tifosi di Atalantini sotto l'albero. Come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale, poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita guardate è la prima volta che mi trovo nella difficoltà di dover raccontare qualcosa perché non c'è stato niente. Il campo non ha detto assolutamente nulla, il Genoa non ha fatto praticamente niente, cioè non stiamo parlando di uno di quei paledi in cui dici è l'avversario ha fatto la partita della stagione. No, non ho manco attaccato l'avversario, abbiamo fatto tutto noi da soli e questo è doppiamente amaro. E quindi bisogna fare delle discussioni extra campo per forza di cose. Per andare a indagare e riflettere sui due o tre problemini di questa squadra tenendo conto che comunque insomma io sono più che soddisfatto di dove ci troviamo e dei punti che abbiamo fatto e del percorso che stiamo facendo. Io credo che la partita di ieri abbia dimostrato sia figlia sostanzialmente dalla paura. Perché uscito zappata la squadra non ha più avuto il coraggio di rischiare e di esporsi, probabilmente gli spettri anche di fare una figuraccia hanno inciso tanto. Probabilmente anche il campo di patate in cui si è giocato ha le sue responsabilità, però per quanto mi riguarda anche sulla sabbia bisognava battere il Genoa. Perché il dislivello era troppo alto e la prestazione dell'avversario è stata veramente sottotono. Non ci sono attenuanti. Quello che però è emerso secondo me è che questa squadra è zappata dipendente. Non solo nei termini offensivi e diretti, cosa che comunque tra l'altro è vera, ma caratteriali. Cioè uscito zappata non c'è stato più nessuno in campo in grado di dare brio, punzecchiare, sollecitare, sostenere i giocatori. Ci si è addormentati e nessuno ha avuto, non so, quel guizzo, quella anche gesto d'orgoglio di provare anche magari un'azione in solità era giusto per essere ad esempio agli altri. E' un tema su cui bisogna lavorare perché l'avevamo già individuato in altre partite, fortunatamente non è un problema che emerge spesso, però caratterialmente questa squadra non è solidissima, lo sappiamo. E' solida quando gioca a mille, ma altrimenti mostra un po' di fragilità dal punto di vista e bisogna per forza lavorarci. Così, così come bisogna lavorare dal punto di vista dell'organico, perché la partita di ieri ha evidenziato come alcuni giocatori oggi non siano così utili alla causa. Prende Milanciuk che non ha sfruttato l'occasione ed era tranquillamente alla sua portata. Un Muriel che ha fatto sicuramente un grande 2021, ma in questo momento vuoi per le voci di mercato, vuoi perché è stanco, vuoi per uno, vuoi per l'altro, non è in condizione, non è che offra queste grandi certezze. Un Ilicic che, per quanto la giocata sia sempre alla sua portata nel complesso, non è che sostiene. Un Malinoski che cerca comunque quelle due giocate fisse e di conseguenza, fortuna, caro di Uva, al momento del mercato, sono curioso di vedere le considerazioni che farà la società, ma è abbastanza evidente che qualcosa bisogna fare, perché là davanti bisogna guadagnare imprevedibilità, bisogna guadagnare anche un po' di freschezza dal punto di vista. mentale e quindi è utile inserire qualcuno, ma che sia subito decisivo. Vedremo come ci si muove. Io credo che siamo nella sfortuna fortunati perché arriva la pausa, una pausa lunga, in cui possiamo riprendere il fiato, schiararci le idee, riposarci e ci arriviamo bene, perché comunque arriviamo con record di punti, quarto in classifica, con un bel vantaggio. Certo abbiamo buttato via dei punti, però arriviamo in una situazione in cui obiettivamente, nonostante qualcuno ci abbia preso gusto a fare commenti caustici come se fossimo terzultimi con nove punti, in cui possiamo anche essere abbastanza sereni. Dobbiamo ossigenare, dobbiamo affilarci anche alla società che deve fare delle scelte e quindi abbiamo questa pausa che proprio cade a fagiolo. Io non credo ci siano problemi più grandi di quelli che si vedono. È solo un momento, un momento di flessione congeniale. Fortunatamente la pausa ci permette di riprendersi e sono sicuro che faremo un gran bel girone di ritorno. Direi che ho detto tutto. L'ultimo appunto che voglio fare è legato ai commenti di certi tifosi. Io ci sto a criticare la prestazione, ci sto a criticare la squadra perché è giusto che sia così, però la critica deve essere legata al campo. Se ci si va a riprendere storie enormi o addirittura a fare delle mega riflessioni sulla società, a quel punto però il giudizio lo esprime su tutto il percorso. E ripeto, siamo quarti, con un vantaggio, con un record di punti, con 100 passagol fatti. Quindi, insomma, non vorrei che qualcuno con la scusa di una squadra che comunque sta facendo bene, incominci a esagerare anche con le pretese. Direi che ho detto tutto. Permettetemi di farvi gli auguri di Natale. Sicuramente ci vedremo per altri video, ma dubito prima della festa. Quindi, buon Natale a tutti voi, ovviamente da me e anche da atalantino.com. Ciao!